Quest'uomo è un autore, ma non ci ha dato il consenso e non possiamo mostrare il suo volto online. Buongiorno, autore! Vi siete mai chiesti a quale studio legale si affidano gli autori per i propri contratti? Dandy, naturalmente. In Italia la maggioranza degli autori si affida a Dandy. Dandy, lo studio legale più usato dagli autori.